ciao a tutti oggi vi dovrò parlare di un problema sono guarda poche parole sogno un cazzato niru ma niru cioè in poche parole ti dirò che tu c'è a fare allora io andai da una pizzeria andai e mi schifiai ma mi schifiai perché praticamente non si può c'è un cameriere ti porta qualcosa da mangiare e assenti quell'odore strano non sono i miei amici perché i miei amici usano vari prodotti però il cameriere che lavora con la clientela faceva uno strano odore faceva buzza giusto quindi io allora ti consiglio di toccare questa bomboletta guarda ti spiego in due parole che tu c'è a fare così guarda il tutorial velocissimo costa 2 euro praticamente io ho l'obietto no ho l'obietto qua poi fai così fai così usi questo fai così un colpo e un colpo basta dopo non fai nient'altro così almeno non monta osso che almeno da usare prima prima di andare a lavorare no tanto ci sono kid che durano 12 ore 24 ore 8 ore praticamente per il tuo arco dell'ora del che vuoi andare a lavorare e niente vada siamo tutto 2014 siamo giusto ai tempi non usavano quindi c'era la c'era c'era il problema che gli antichi non li usavano ma non succede niente ora siamo tutto 2014 e tutto 2014 quasi sta scottando sta scottando il 2015 va bene va sta scoccando il 2015 puttana miseria non si può ma vede a cattare sti cazzi prodotto avete a cattare picchi fa di fetu e tu quindi cattati pini e niente il tutorial finisce qua spero che la prossima volta che verrò a mangiare non farei più fetu e niente se vi è piaciuto un pollicione in su puro tuoi non lasciate dislike perché sennò vediamoci a casa se vi è niente per marzo e niente e se volete sapere qualcos'altro di qualche prodotto che non sapete usare io ve lo spiegherò in poche parole niente se vi è piaciuto lasciate sempre like e basta e niente addio a tutti e quindi